Aveva anche denari in conti correnti del Principato di Monaco, un'associazione a delinquere smantellata dalla Guardia di Finanza di Bologna. Le fiamme gialle hanno sequestrato beni mobili, immobili autovetture, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti per quasi 25 milioni di euro. 16 le persone indagate, a cui a vario titolo è contestata l'associazione per delinquere, finalizzata la commissione di numerosi crimini, tra cui l'emissione, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'omessa dichiarazione fiscale, l'occultamento di istruzioni di scritture contabili, la simulazione di reato, il tutto con l'aggravante della transnazionalità in relazione al fatto che le varie condotte criminali sarebbero state commesse in più stati. Attraverso una rete di prestanomi, l'organizzazione aveva messo in piedi varie catene societarie costituite da società italiane, con sede fittizie in Gran Bretagna e società ubicate tramite l'interposizione di fiduciari estere in paradisi fiscali. Il sofisticato sistema di frode, attuato per anni dal sodalizio criminale, ha condotto alla scoperta di un giro di fatture false o gonfiate per oltre 75 milioni di euro, con un'evasione di imposta milionaria.